Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale da Marco Azzurro. Scusatemi per gli ultimi 5 giorni di inattività, ma ci sono state le interviste. Ha parlato Garcia, ha parlato De Laurentiis, ha parlato il nuovo DS, Mauro Meluso, e volevo aspettare che finissero questa serie di interviste per fare un resoconto. Allora, partiamo da Garcia. Andiamo subito. Garcia è stato molto diretto, mi è piaciuta la sua comunicazione, è stato chiaro, secco, preciso nel smentire o nel confermare determinate voci di corridoio. Ha chiarito che Ozymane e Kwaraskeya resteranno, ha chiarito che Kim non sarà un giocatore del Napoli. Nonostante i vari giornalai stiano cercando di vendere questa idea che il Napoli non gli sono arrivati i soldi, che Kim forse se ne vuole, ha cambiato idea, vuole andare al Bayern Monaco, cioè non vuole andare al Bayern Monaco, vuole andare al Manchester United, non si capisce nulla, ma lui è stato molto chiaro. Comunque vada, Kim non sarà più un giocatore del Napoli. Poi, è stato molto chiaro anche su Raspadori, lo ritiene un giocatore importante, da mettere, da includere nel progetto, ma ovviamente, ed è stato chiaro che la società è al lavoro per trovare un nuovo difensore, ma questo mi sembrava ovvio. Passiamo a Meluso, Meluso è stato molto più vago, ha specificato che ci sarà un meeting con De Laurentiis, i vari, vabbè, De Laurentiis, Chiavelli, Rudy Garcia e Micheli, perché vi ricordo che Micheli e Mantovani faranno il mercato del Napoli, io ve lo dico già, questo nuovo DS ne vedremo i frutti da gennaio, non penso che vedremo subito la sua impronta, certo i colpi li farà lui, questo è chiaro, ma secondo me inizieremo a vedere veramente il suo lavoro dopo. Per ora se ne occuperanno Micheli, Mantovani e De Laurentiis del mercato e quindi sostanzialmente lui ha detto che non sa nulla, che è appena arrivato, che non è informato, gli hanno chiesto di Osimen, gli hanno chiesto bene o male le stesse cose che hanno chiesto pure a Garzia, lui ha risposto generalmente che non sa nulla, cioè, poverino, appena arrivato, un po' spaisato, ha detto non so nulla, gli hanno fatto la domanda se ti fa Juve, lui ha detto che non ti fa niente, ti fa la squadra in cui lavora, quindi ti fa Napoli, lo vedo molto professionale, lo vedo molto puntiglioso, attento a ciò che dice, secondo me è il profilo giusto, ma l'ho detto già subito nel video che ho fatto in cui parlavamo del suo acquisto, De Laurentiis poi ci ha raccontato come è avvenuto l'acquisto di Meluso, niente, praticamente De Laurentiis gli ha fatto una telefonata e in 20 secondi si sono accordati sul contratto e tutto quanto, quindi veramente penso sia stata una delle cose più rapide, molto probabilmente De Laurentiis non si ricordava nemmeno il nome di questo cristiano il giorno prima, si è ricordato della sua esistenza o l'ha chiamato, io lo vedo, l'unico problema, poco caratteriale, lo vedo poco capace di imporsi nei confronti della dirigenza, lo vedo molto aziendalista come di esse, ma in realtà lo era anche Giuntoli, quindi è meglio non lamentarci, detto ciò lui è stato chiaro, è appena arrivato, non sa nulla, quindi ha fatto anche capire che oggi era una giornata importante, o meglio mercoledì, comunque questa settimana sarà una settimana importante, perché ci sarà questo incontro in cui decideranno gli acquisti, i movimenti da fare e già si sprecano i nomi, ovviamente i giornalai cercano di azzeccare i nomi, io vi ripeto che quest'anno sto evitando un sacco di sangue amaro a furia di... ci evitiamo di sangue amaro a furia di seguire tutti questi giornalisti, io ve lo dico, e infatti ragazzi come potete vedere gli ultimi miei video sono tutte cose ufficiali, giuntali alla Juve, ufficiale, maglietta nuova, ufficiale, meluso, ufficiale, poi ho fatto il video su Itakura, ma lì vabbè era un chiacchiericcio di mercato, l'ho specificato, quindi vabbè, bene o male ho parlato solo di cose ufficiali, quindi d'ora in poi farò così e ci evitiamo anche tanta fatica, perché parliamoci chiaro, quando si parla di voce di corridoio e si iniziano a dare i numeri, i numeri possono tranquillamente non essere corretti, invece quando la notizia è ufficiale i numeri sono ufficiali, quindi è più bello riuscire a commentare una notizia, magari un giocatore è stato preso a poco, tu sai per certo che quel giocatore è stato preso a poco, non è una voce di mercato, quindi praticamente vai a commentare una cosa certa, non so se mi avete capito. Detto ciò, De Laurentiis ha raccontato in retroscena sull'acquisto di Meluso e io ve l'ho detto, il Napoli non inizierà il calciomercato fino a quando non ci sarà il nuovo DS, ora c'è, ci sarà questo meeting, questo incontro con tutta la dirigenza e vedranno cosa fare, è giusto così, così funziona ragazzi. Noi comunque ci vediamo alla prossima, iscrivete come la città della like, vi chiamiamo la vostra e ciao a tutti.